La pronuncia del Tribunale ha detto che evidentemente il sistema 1, il cosiddetto sistema 1, non esisteva e quindi forse l'incipit della conferenza stampa del Pubblico Ministero all'epoca non c'è solo una Roma Capitale ma c'è anche una Trani Capitale, era completamente inesistente e c'è qualcosa invece sul sistema 2 che ha portato purtroppo delle pronunce di condanna in capo a qualche dipendente o ex dipendente del Comune. Oggi ripercorre con determinazione e serenità i passi di otto anni di attesa nella certezza della propria innocenza poi certificata anche dal Tribunale di Trani fu un vero e proprio terremoto politico istituzionale quello tra il 2013 e il 2014 nella città tranese un terremoto politico che vide una prima parte che fece cadere anche l'amministrazione guidata da Luigi Riserbato che a distanza di otto anni da quei momenti così concitati e drammatici è stato assolto con formula piena da tutte le accuse a suo carico. Ci sono voluti quasi 3.000 giorni, 8 anni per riuscire a scalare questa montagna veramente estremamente in salita con dei giorni molto bui per la vita personale e familiare ma anche per la vita della città e poi riuscire finalmente a vedere la vetta. Sono molto grato intanto alla mia famiglia, a una stretta cerchia di amici che mi è stata molto vicino ma sono grato anche nei confronti di chi ha avuto il dubbio nella speranza che oggi con questa sentenza pienamente assolutoria possa ricredersi. In tutti questi anni l'ex sindaco riservato si è eclissato preferendo il silenzio alle parole magari scomposte di chi è stato ed è uomo delle istituzioni. Quando le istituzioni le si rappresenta poi si ha l'obbligo anche di rispettarle anche quando all'interno della stessa o delle stesse cambia il vento. Quindi l'ho fatto con un atteggiamento di estrema prudenza, di rispetto nella certezza che l'accertamento della verità prima o poi sarebbe arrivato. Tanti momenti difficili di una storia giudiziaria come tantissime altre durata però molti anni e dal cui termine il paradosso ha voluto come l'ex sindaco fosse giudicato innocente mentre il suo grande accusatore, il PM Michele Ruggero, ex ormai di Trani, fosse condannato per violenze sui testimoni. All'esito del periodo di custodia cautelare il pubblico ministero incredibilmente in capo sottoscritto che ricopriva all'interno dell'amministrazione poi un ruolo non tanto defilato appunto essendo il primo cittadino chiese l'archiviazione dell'associazione delinquere. Dopo un paio di anni la GUP, la giudice dell'udienza preliminare, ha provveduto ad assolvermi perché il fatto non sussiste per altri due capi di imputazione e ultimamente il collegio, nonostante fosse intervenuta la prescrizione dei due capi di imputazione residuali, mi ha assolto con formula piena perché il fatto non sussiste. Luigi Riserbato ricorda anche come l'inchiesta sul sistema Trani 2 fosse tra le altre cose nata anche grazie ad alcuni anticorpi interni all'amministrazione della città in quel periodo storico. Ora però la certezza è che l'impegno per la città di Trani non mancherà e continuerà ad essere ancora più proficuo, magari con un ritorno sulla scena politica che Riserbato non esclude. Me lo stanno chiedendo in tanti, io per il momento continuo il mio atteggiamento di prudenza, di silenzio anche perché vorrei ancora capire tante cose, con quello che garantisco, direi, ho sempre garantito, è un impegno per la città.